allora con te affronteremo sempre una tematica che è caratteristica proprio di faraona ovvero architetture trasparenti però affronteremo e sono molto contento di questo il tema della progettazione degli spazi interni e soprattutto del del bagno qui c'è una camera questo punto c'è il bagno con i sanitari lavabo messo proprio a parte e qui poi si accede per un altro ambiente però vediamo come addirittura qui davanti e posta una vetrata si può divertire ad avere un'illuminazione multicolor qui siamo sempre a firenze dove di fronte al duomo proprio c'è questa chicca che usata per per far passare invece stavi dicendo per quanto riguarda movimentazione automatismi movimentazione meccanica eccetera è previsto qualcosa qui è tutta meccanica qui abbiamo movimentazione meccanica in questo caso c'è